Lavorare all'Olandia per me vuol dire essere un ambiente stimolante che ti permette di crescere sia a livello professionale che a livello umano. È un'ottima esperienza che consiglio soprattutto per chi vuole entrare per la prima volta nel mondo del lavoro. Ho imparato a conoscere meglio me stesso, bisogna essere gentili e disponibili a rispondere e risolvere tutte le richieste degli ospiti con gentilezza e creatività. Per me significa acquisire diverse competenze lavorative. Ho imparato a gestire in modo professionale gli ospiti, ad essere più empatica con i bambini e a gestire lo stress. Questa esperienza lavorativa mi ha fatto diventare grande. Ho imparato in poco tempo, grazie soprattutto al lavoro di squadra, al supporto che ho sempre avuto, a gestire un negozio che mi è stato affidato e per me non è stato semplice perché è stato il mio primo lavoro e mi sono trovata davvero bene, mi sono stata accolta e aiutata. Mettersi in gioco ogni giorno, ricercare soluzioni sempre innovative per contribuire alla promozione e allo sviluppo del parco, citati in un lavoro dinamico, in continuo divenire, per soddisfare le esigenze dei nostri ideosi. Lavorare all'Olandia è bello perché è un mondo unico, magico, speciale, è un mondo fantastico che esiste davvero. È sicuramente l'ottimo rapporto con i colleghi responsabili. Io all'Olandia siamo in tantissimi, ragazzi e ragazze di qualunque età, per lo più giovane, che hanno in comune il sorriso e la gentilezza. È un luogo pieno di energia ed entusiasmo. È sempre bello vedere i bambini che a fine giornata escono con un gran sorriso. Proprio in quel momento capisci che per loro è stata una giornata magica e tu, insieme al resto dello staff, hai contribuito a renderla indimenticabile. È un lavoro vario e non ti annoi male perché sei contatto con tante persone, che siano colleghi e ospiti. Ogni giorno è una sfida e accende la creatività di ognuno di noi, risultando estremamente motivante. È bello perché si ha la possibilità di confrontarsi con diverse persone all'interno di un ambiente vivace, dinamico, divertente e anche magico.